Ciao amici Mr. Gadget, buona giornata e bentrovati all'appuntamento con le Daily Tech News di Mr. Gadget. Oggi forse ci dovremmo dedicare solo a questo oggetto, alla Nintendo Switch. Io sbucco da dietro, poi magari vi faccio vedere anche quello che c'è all'interno della scatola. Però in realtà prima diamo un occhio a un paio di notizie molto interessanti. La prima delle quali è che negli Stati Uniti Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge avranno un taglio di prezzo di 250 dollari, molto significativo e non solo, vi verrà regalata anche una memory card insieme al telefono al momento del suo acquisto. Ma credo che ci siano altre due notizie su cui concentrarsi nella giornata di oggi. La prima è quella della motivazione per cui gli Amazon Web Services sono crollati un paio di giorni fa e hanno mandato metà della rete in tilt essenzialmente per un errore umano. Un uomo dedicato alla manutenzione anziché spegnere solo alcuni dei server di cui si doveva fare qualche lavoretto di aggiornamento ha spento essenzialmente un numero molto più elevato di server compresi quelli che contengono i servizi S3 su cui si basano molti siti in giro per il mondo. Insomma un errore umano per una sorta di catastrofe che l'altro giorno ha colpito la rete. E poi l'altra notizia riguarda il Google Assistant che viene distribuito non solo ai telefoni Pixel e ai telefoni Nexus ma anche a tutti gli altri produttori e piano piano arriverà in tutto il mondo. Si parte dalle zone a lingua inglese, si parte da coloro che hanno il telefono settato con la lingua nativa inglese e poi via via ci sarà il deployment in giro per il mondo. Questo è un positivo per molti degli utenti di Google in giro per la terra ma insomma devo dire che impoverisce un po' il LG G6 invece che ha venduto come un feature importante. Allora questa è la Nintendo Switch, quella che vedete in questo momento per le mie mani. funziona in modo molto semplice, voi prendete il controller e agganciate, vedete il controller in questa posizione in questo modo voi avete esenzialmente la console pronta all'uso. Se però magari siete a casa e volete fare qualcosa di diverso, quindi usare il controller domestico apro la scatola e sfilo questo che è la base del controller domestico su cui vedete potete essenzialmente infilare i vostri Joy-Con e a quel punto avrete un pad da casa pronto per l'utilizzo. Quando poi arrivate a casa c'è un ulteriore pezzo da utilizzare collegato ovviamente anche all'energia elettrica con tutto il cablaggio che vi serve che è questo, infilate il vostro tablet nella sua posizione guardate, toc, eccolo e vedete questa è la Nintendo Switch pronta per giocare a casa. Allora i giochi disponibili sono ancora molto pochi quindi insomma voglio dire non è esattamente in questo momento un acquisto straordinario. sulla funzionalità, fatemi provare perché le prime ore mi hanno lasciato un po' perplessino però voglio approfondire molto nella giornata di oggi poi nel weekend vi racconterò un po' di più di Nintendo Switch. Intanto per le delle tecnose direi che è tutto vi auguro una buona fine settimana non ci sarà bel tempo nel nord dell'Italia comportatevi bene comunque divertitevi, accendo il dito e spengo!